Una lunga esperienza come tecnico installatore civile industriale e poi l'incontro con i sistemi per la produzione di energia da impianto fotovoltaico di ultima generazione. Con il suo bagaglio di esperienza e professionalità, Michele Pontefice è stato tra gli stendisti di Agriumbria 2014 per presentare la novità messa a punto dalla ditta Enercom. Il primo sistema di accumulo che consente di accumulare l'energia senza immetterla in rete e utilizzarla per la propria abitazione oppure attività. L'impianto permette di mantenere la disponibilità di energia e di erogarla con potenza costante. Oltre all'accumulo questo sistema offre la possibilità di stabilizzare la tensione d'ingresso sia del contatore, quindi della rete Enel di casa, sia di fare da UPS a tutto il nostro impianto. Quindi nel momento in cui c'è un blackout e viene a mancare la tensione per qualsiasi motivo, il nostro sistema garantisce la fornitura sia all'impianto luci che all'impianto prese dell'abitazione. La macchina, facilmente fruibile dal potenziale utilizzatore, famiglia o azienda, ha una maschera che consente di rilevare l'energia prodotta, quella accumulata e disponibile e le caratteristiche che l'impianto presenta sul momento. Grazie per la visione!